Amici di Fanny Moon parte una nuova puntata di Fanny Moon e sempre in compagnia del nostro mitico James the Professionist che ogni tanto riappare in apertura e chiusura di puntata con noi magicamente e ci fa compagnia e soprattutto sono contento finalmente anche di rivederlo all'opera grazie grazie mille con dei servizi sempre diciamo così sfiziosi però diciamo sempre delle cose che professioniste va oltre diciamo che anche lui si sceglie dei nomi soprannomi nickname è piuttosto facile da dire come anche la sua associazione che si occupa di artisti che si chiama la source of emotions ma vedi vedi però l'anagramma SOE SOE è più facile ma parliamo appunto di questa SOE che cos'è la SOE? è una diciamo un'associazione culturale che si occupa tra i 60 di spettacolo organizzazione eventi moda cinema tv dalla preparazione dell'artista proprio alle produzioni in pieno toto di teatrali e non con la fusione che abbiamo fatto con te e con Fanny Mon diamo l'opportunità a tutti gli artisti di poter proporsi sia attraverso la tv che anche in uno spettacolo teatrale una o le band in locali a noi consociati tra virgolette e quant'altro ci tengo a dirlo che è tutto a titolo gratuito per dare la nostra esperienza e far sì che ci si che quello che noi non abbiamo avuto l'opportunità l'opportunità di farvi conoscere e soprattutto di crescere in un ambiente diciamo di professionisti a proposito di questo la settimana scorsa abbiamo visto un servizio a teatro diretto e riadattato appunto da te con due giovani artiste in erba che si sono completamente affidate e buttate in uno spettacolo diciamo anche piuttosto difficile 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 ma ancora ti è piaciuto? a me tantissimo grazie aspetto di vedere i commenti anche dei nostri telespettitori da casa ci tengo eh ci tengo quindi voi vi ricordo che potete farlo tramite il nostro facebook cliccare mi piace sulla nostra pagina sempre Fanny Moon Fanny Moon per rivedere tutti i nostri servizi e essere soprattutto aggiornati delle nostre iniziative sempre ricordiamo anche il canale youtube certo Fanny Moon dove lì potete vedere tranquillamente tutte le nostre tutti i nostri video da qui a anni addietro or sono e soprattutto se avete partecipato con noi avete la possibilità di rivedervi di scaricare il video e di postarlo a vostro piacimento e ricordiamo anche il numero telefono sempre il 333-333-8693 bel messaggio una bella telefonata per chiamarci per potervi esibire oppure se siete in qualche locale volete che veniamo a fare delle riprese interviste o quant'altro oppure un messaggino anche di gradimento che fa sempre piacere esatto e noi lo leggeremo se volete fare anche una dedica e tutto il resto ma soprattutto come diceva prima il nostro James se avete un evento e volete pubblicizzarlo in televisione potete farlo chiamando a questo numero in televisione detto questo c'è rimasto da dire sommario a questo numero in televisione